Ciao a tutte e a tutti dal vostro Andrea Cartotto, docente mentor e ambassador di progetto Scuola Digitale Liguria. Ferragosto, osservatorio mio non ti conosco, un detto che non calza a pennello, l'osservatorio dei progetti innovativi di Scuola Digitale Liguria? Lo dobbiamo conoscere anche in questo weekend di Ferragosto. Come facciamo ad entrare? Beh, molti di voi già lo sanno, ma andiamo su Scuola Digitale Liguria.it, andiamo a scegliere la voce legata all'osservatorio dei progetti innovativi, entriamo con le credenziali personali, speed o cie, ed eccoci qui. Controlliamo il primo accesso di essere abbinati correttamente alla nostra istituzione scolastica e poi clic sulla mappa, magari in montagna, a casa sotto l'ombrellone, per trarre spunto da levante a ponente, da qualche progetto già inserito. Oppure clic sulla lente, cerca nell'osservatorio inserendo parole chiave per frugare un po' tra progetti e idee da cui vogliamo prendere ispirazione, ma soprattutto è la voce gialla da utilizzare, inserisci progetto e documentazione. perché? Perché in autunno potete così aspirare a aggiudicarvi il premio progetto Scuola Digitale Liguria. Ebbene sì, quest'anno a tema, quindi l'ambito di riferimento è Cyber Security. Io ho in mente una idea che ho già realizzato, che realizzerò nell'imminenza dell'inizio anno scolastico. Entro nell'osservatorio. Clicco su inserisci progetto e documentazione, riempio tutti i campi della scheda innovazione con il mio progetto, con i miei dati in ambito Cyber Security e incrocio le dita. Possiamo partire dalla netiquette e vedrete che in un prossimo video vi racconterò come. Potremo ragionare sulla educazione civica digitale, ulteriori comportamenti virtuosi da adottare in rete, sulla intelligenza artificiale e sul rischio che ci possa essere legato alle immagini cosiddette fake, esercizi sulla crittografia e molto molto altro.